e ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi sono tornati qui su monopoli go per completare come sempre vincite veloci iniziamo subito con una distruzione ok il primo era di tirare cinque volte adesso migliorare l'edificio infine qual è l'ultima vincita veloce arrivare su imprevisti ma questa potrebbe essere un po un problema che dipende se siamo fortunati se ci arriviamo subito oppure se dai non ci credo per uno adesso mi di double 6 per arrivare sono imprevisto niente vabbè mi sto zitto se no veramente infatti mi sto stato zitto ragazzi siamo arrivati su imprevisti infatti ok allora facciamo questa distruzione andiamoci a vendicare sembra se non hanno scudi ecco appunto però l'importante è ero centesimo regà bellissimo vabbè tranquilli che adesso si stiamo un po le cose che se mancano 13 minuti migliora un po aumenta un po il moltiplicatore ok prendiamoci questa emoji che applaude e che di raga spera questo video vi sia piaciuto lasciate di like e noi ci vediamo domani con un prossimo video ciao 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 ciao